Grazie 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 E' un grande honore, e sono davvero orgoglioso di essere parte di questa storia e insha Allah, se posso avere l'opportunità di partecipare nel cerimone di questo museo fantastico. Il primo rappresentante per l'Europa, da l'azma del coronavirus, ha preso che arriva a Mascar. D'è il rappresentante per l'azma di Mascar. E' stato fatto un programma molto grande, abbiamo preso in Mottare del Cahirà e del Gherdà, un pubblico in Gherdà, un pubblico di Gherdà, un pubblico di Mascar. E abbiamo fatto una spazio di Bacchari.